Buonasera, questa è l'azienda da Viti Santino, fondata nel 1971 e questa sera nel 2019, 11 febbraio, chiude. Volete sapere perché? Dalla mongetura andiamo al frigorifero, perché gli industriali ci hanno portato a condizioni critiche. Allora, penso che l'azienda non può andare avanti in questo sistema, facendo un po' e si fa male, e finisce la cosa. Spero che tutti gli allevatori ci hanno portato ad andare avanti in questo sistema. Adesso speriamo che stappano anche altri, perché già siamo stati due stasera a stappare. E in tre? E in quattro? La promessa che avevo fatto di non essere un po' di ghiacchieroni è stata mantenuta. Adesso vogliamo vedere anche gli altri portoni. Che intenzioni hanno? No, e lo fanno noi, e lo faremo noi. No, e le tene le condizioni, io ho più il libro. Dio, lo faremo anche lui.